ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a sviscerare oggi è il Breitling Top Time Triumph la collezione Top Time di Breitling prevede dei cronografi ognuno dei quali è dedicato a una casa motoristica o addirittura ad un modello mi viene in mente il modello Shelby Cobra il modello Corvette quello di oggi è dedicato a Triumph il noto costruttore di motociclette inglese ora tra tutti questi orologi qua anzi ce ne sono alcuni che sono più costosi alcuni meno costosi questo è da sottolineare c'è addirittura uno che è veramente un unico modello che costa 5.500 euro che però è l'unico con il calibro 77.50 attenzione è l'unico con il 77.50 e con l'impermeabilità limitata a 3 atmosfere invece per esempio questi qua classici come quello che andrò a recensire io incassano il calibro di manifattura e poi ci sono certi che costano oltre 40.000 euro che hanno il tourbillon hanno il tourbillon e hanno un calibro che è interessante da sottolineare che loro chiamano di manifattura ma glielo realizza la jupere ecco ho fatto tempo fa un utente mi fece una domanda ma perché nessuno si rivolge alla jupere e nella risposta che diedi appunto come esempio Breitling che magari non voleva utilizzare questi casi e invece li utilizza in questo caso qua quello con il tourbillon è fatto dalla jupere però l'orologio costa una barcata di soldi poi cosa c'è da dire che questo orologio qua è particolare perché perché presenta una forma estetica particolare cioè ha i sottocontatori che loro chiamano squirco che è una crasi tra square e circo cioè sono i sottocontatori un pochino tondi e un pochino quadrati una via di mezzo tra tondo e quadrato e sono molto particolari chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che è partner ufficiale del canale ed è concessionario ufficiale del marchio quindi potete rivolgervi a loro se volete qualche Breitling o anche altri marchi e ce n'hanno una marea come si suol dire io l'ho scelto perché mi piace questo orologio l'abbiamo maneggiato durante l'ultimo video che abbiamo fatto in negozio un utente chiedeva, l'ho mostrato e ho detto ma questo qua quasi quasi me lo porto a casa ci faccio una recensione oncina, una panoramichina e così eccolo qua, siamo arrivati a questo punto adesso l'orologio del giorno è questo bellissimo Longin Spirit 40 mm di diametro cassa calibro L888 quadrante blu simpaticissimo blu, bello, mi piace bello orologio, è sempre detto uno dei miei preferiti ora volevo precisare che il fatto che sia questo orologio in collaborazione con Triumph non significa che ci sono i meccanici della Triumph che si sono messi lì a costruire l'orologio insieme a quelli di Breitling semplicemente hanno dato in concessione il marchio, l'utilizzo del nome e del brand per poter realizzare questa edizione qua che non è limitata perché all'inizio le Top Time erano edizione limitata questa qua invece è a catalogo fissa come le altre della Top Time va bene dai, ho detto anche troppo giriamo la camera, diamo un'occhiata all'orologio e poi torniamo qui per le considerazioni personali per imparare a conoscere un orologio occorre iniziare dalle misure diametro cassa 40.9 mm spessore 13.4 ingombro trasversale al polso 49.8 interasseanza da 20 mm un cronografo con dimensioni contemporanee ma senza esagerare fa specie lo spessore al di sotto dei 14 mm che può essere considerata come la soglia psicologica dello spessore almeno per un crono mentre risulta piuttosto corposo in lag to lag di quasi 50 mm questo insieme di dati ci restituisce proporzioni che enfatizzano nel rapporto lunghezza-larghezza di molto preferibile rispetto ad un orologio largo e con ansie corte ed è ciò che imputo come colpa al mio Mega Speedmaster il sembrare troppo largo rispetto alla lunghezza ma questo è un altro discorso insomma un cronografo che al polso riesce ad apparire moderno nella presenza e retro nell'aspetto questo perché ogni singolo elemento che compone il design si ispira agli orologi dei tempi passati tale concetto è riscontrabile nella forma della cassa ansie spigolose che volgono verso il basso e che si congiungono al corpo formando un ampio angolo ottuso nel gruppo pulsanti a fungo ben delineati ma discreti nelle dimensioni e nel vetro sporgente bene in evidenza ai lati ma che va appiattendosi al centro a tal proposito occorre notare l'inclinazione di 45 gradi del bordo zaffero che riprende pedissequamente quella della lunetta visivamente appare come un doppio scalino contiguo un dettaglio che non è subito percepibile ma che caratterizza incisivamente l'aspetto generale va da sé che con un siffatto trasparente lo spessore del lato carour è piuttosto esiguo e snello non appesantisce la visuale e risulta quindi ben portabile non tralasciamo le finiture che come sempre nei brightling rappresentano un punto focale interessante il lato cassa è spazzolato longitudinalmente piuttosto fine e delicato mentre la parte superiore appare lucida e uniforme un insieme di lavorazioni capaci di rendere al meglio nel momento in cui indossando l'orologio si scorgono quegli scintillì propri degli orologi di pregio un altro elemento che ci riconduce alla contemporaneità di questo top time è dato dai parametri relativi all'impermeabilità in quanto pur avendo una corona a pressione e i pulsanti cronografici riesce a dichiarare una resistenza alla pressione pari a quella riscontrabile a 100 metri di profondità circa questo è da considerarsi un buon risultato un dato che ci consente di utilizzarlo senza timore ma che non sta a significare utilizzatelo in mare certo se vi capita di immergerlo per errore o sbadataggine non gli succederà nulla ma perché utilizzare un siffatto cronografo per un bagno in piscina meglio non rischiare e poi non si tratta della tipologia di orologio corretta da utilizzare in certe situazioni i pulsanti crono rappresentano da sempre un punto critico e da nuovo è sicuramente tutto perfetto ma basta una pressione involontaria del pulsante per mettere alla prova le sue guarnizioni meglio non farlo anche perché quello è l'unico punto critico dato che il fondello ha avvitato la cassa ermeticamente e sicuramente leggerebbe ben altre sollecitazioni il bello di questo componente è che pur essendo a vista scongiura totalmente l'effetto ciambella tanto temuto il calibro sottostante riempie bene gli spazi della cassa e si mette in mostra lasciando poco spazio all'acciaio circostante si tratta del calibro 0.1 realizzato in casa dalla divisione Breitling Cronometry che si occupa dei movimenti di architettura proprietaria dell'azienda svizzera è dotato di sistema di smistamento con ruota a colonne e di un innesto verticale che garantisce un funzionamento preciso, docile e regolare solitamente questo tipo di architettura è scevro da impuntamenti e salti alla partenza inconvenienti che spesso affliggono invece altre configurazioni di calibro cronografico tra le caratteristiche tecniche vi è poi una incongruenza che mi corre l'obbligo di evidenziare nella scheda dell'orologio sul sito ufficiale viene riportato calibro 0.1 con 34 rubini e in effetti sulla platina dell'orologio vi è la dicitura 34 jewels sempre nel sito ufficiale alla pagina calibri il movimento 0.1 viene descritto come avente 47 rubini si contraddicono ho provato a fare ricerche e non sono giunto ad alcuna conclusione utile tutti i siti attendibili descrivono lo 0.1 come avente 47 rubini e non si trova alcuna spiegazione sul perché esista una versione da 34 personalmente ho elaborato una supposizione che mi porta a pensare che il 47 rubini sia la versione standard tricompax con data mentre 34 rubini la versione bicompax senza data anche se la differenza di 13 rubini mi sembra elevata per giustificare l'assenza di quei ruotismi ma tant'è rimarremo con il dubbio anzi può essere uno spunto per gli smanettoni nerd a fare una ricerca in autonomia in ogni caso si tratta di un calibro dalle prestazioni eccellenti esclusivo e di grande qualità anche se le finiture dei singoli componenti non fanno gridare all'eccellenza un po' troppo semplici e di chiaro stampo industriale ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al lato A del top time beh qui abbiamo la tipica configurazione bicompax che richiama lo stile panda ossia contatori scuri su fondo chiaro nonostante ciò l'originalità dell'insieme viene decretata da alcuni particolari che andremo a sviscerare in primis il color blu ghiaccio che tende a replicare quello di una rara versione del top time degli anni 70 ed in secondis la sagomatura dei due contatori definita squircol non proprio quadrati non proprio tondi che rievocano i contagiri vintage dei cruscotti se non bastasse il quadrante presenta una lavorazione particolare chiamata zorro il quadrante è diviso in quattro settori da una X che copre tutta la larghezza e le porzioni ad ore 12 e 6 godono di una spazzolatura verticale notevolmente apprezzabile mentre quelli ad ore 3 e 6 appaiono a finitura galbè in certe angolazioni è particolarmente visibile in altre tende ad uniformarsi chiaramente si tratta di una finitura pregevole che regala dinamismo e luce all'intero orologio occorre poi menzionare i due sottocontatori che appaiono in basso rilievo rispetto al piano quadrante e a finitura azure con quei solchi tridimensionali che appaiono tondeggianti all'esterno e sempre più spigolosi man mano che ripiccioliscono si avvicinano al centro insomma un quadrante che brilla per identità propria e che appare tutto sommato ben leggibile fatta eccezione per le sfere ore e minuti che essendo a finitura metallica tendono a mimetizzarsi in alcune situazioni voglio poi menzionare un paio di dettagli apprezzabili e rimarchevoli il logo bright telengadore 12 realizzato in vecchio stile al fine di riproporre la corretta atmosfera retro e il logo triumph ad ore 6 discreto quasi stilizzato a ricordarci che si tratta di un crono dedicato al marchio motociclistico e in quanto dedicato alla velocità c'è anche la scala tachimetrica sul bordo quadrante sinceramente la trovo piuttosto illeggibile in quanto realizzata con caratteri minuscoli e posti proprio al di sotto della curvatura del vetro che tende a distorcere curiosa poi la scelta di evidenziare in bianco la porzione che va dai 70 km orari ai 95 non mi è dato sapere il motivo potrebbe essere il range di velocità massima delle triumph d'epoca in ogni caso sappiate che quel bianco altri non è che super luminova ed infatti in assenza di luce la vediamo bene in evidenza come se dovesse avere una specifica funzione al buio cosa che però non riesco a comprendere le uniche sfere leggibili sono quella ore e minuti sufficienti a darci l'idea dell'orario ma inutili ai fini della velocità media calcolabile sarebbe la sfera crono centrale a dover indicare quel dato ma essendo inerte non è visibile al buio non rimane che narrare le gesta del cinturino in vera pelle di qualità e ben spesso in quanto realizzato su più strati lo si evince anche osservando quei foli decorativi presenti nei pressi delle anse mettono in evidenza i differenti livelli di lavorazione chiaramente il colore nero è un classico e la finitura rugosa della superficie ne va ad accentuare un po' con la sportività caratteristica necessaria per un cronografo si classico ma notevolmente casual nello spirito non poteva mancare la scelta della chiusura deployant che aumenta sempre il livello percepito di un cinturino comodi i due pulsanti integrati alla fibbia che consentono una veloce apertura della deplo senza armeggiare in vani tentativi di sblocco come avviene in alcuni orologi possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali bello il cinturino in pelle è veramente bello con la deployant che gli dona sempre quel pregio un po' di classe però c'è anche la versione con il maglia milanese io non l'ho mai visto con il maglia milanese questo orologio qua però quel maglia milanese lì dei brightling è di quelli che vanno con i finali che seguono la cassa non è un finale dritto proprio maglia milanese e l'ho visto su altri orologi l'ho anche provati è veramente un gran bel bracciale io sarei anche un pochino indeciso sul prendere quello col cinturino o quello con il bracciale in maglia milanese probabilmente potrei per il bracciale sapete che sono un po' pro bracciali però con il cinturino diventa più classico più consono diciamo anche allo stile dell'orologio il cinturino essendo un po' retro il cinturino ci sta meglio che un maglia milanese così moderno se non si vuole modernizzare c'è quello lì con i finali così poi i punti debolini c'è quella scala lì tachimetrica con quel pezzo di super luminova che al buio si illumina che non serve a niente è estetica perché la lancetta dei secondi dei cronografici non la vedo poi perché dovrei prendere fermare il tempo in quel momento lì durante una misurazione non si capisce cosa serve è un puntino debole così come il fatto del calibro che non sono riuscito a capire veramente perché 34 rubini che è ufficiale non è che è fake che è una smandrappata è proprio il calibro che 34 rubini però nella lista dei calibri loro il 34 rubini non lo riportano per loro lo 0 1 a 47 rubini quindi questo qua è un po' un dubbietto che ci rimane che mi rimane ma non tanto perché non sia il calibro non sia di qualità ma perché una mancanza di informazione e soprattutto e non è la prima volta che trovo mancanza di informazioni sui siti web delle case ufficiali diciamolo e soprattutto perché mi piacerebbe sapere conoscere la curiosità è quella che alimenta poi la conoscenza perché 34 rubini quali sono le ruote mancanti quali sono le differenze con il 47 così a livello tecnico un'infarinatura non pretendo di essere orologiaio andare a aprire e vedere ma un minimo di infarinatura sul calibro mi piacerebbe averla come quando uno acquista una macchina non è che bisogna essere tutti meccanici e sapere smontare il motore cilindro pezzo per pezzo ma sapere almeno l'architettura generale del motore che si compra in quella macchina lì quanti cilindri ha quanti cavalli ha come funziona la trasmissione che cosina che bisognerebbe sapere quando si acquista qualcosa poi cos'è i dati positivi l'impermeabilità di 100 metri per un cronografo è buona ottimo veramente un bel colpo lo spessore sotto i 14 13,5 un cronografo 13,5 buono buono io dico sempre non ce n'è sono tutti sono tutti sopra i 14 ecco qua un altro caso insieme allo Shantigraf dell'Eberhard che però quello aveva il calibro modulare questo è il calibro in house 13,5 di spessore ottimo ottimo poi le finiture chiaramente Brightling con le finiture non scherza tutti gli orologi di Brightling presentano finiture sopra fine e poi l'aspetto estetico voglio dire è originale è bello MB Compax con questi square circle con i contatori fatti così a me non piacciono tanto devo essere sincero preferisco quelli tondi è questione di gusto personale io non lo comprare questo orologio ecco detta così ne sceglierei uno con i contatori tondi ma è proprio una cosa mia personale li preferisco per contro con i contatori fatti così un pochino stondati è più originale ha un'identità maggiore questo orologio quindi tutto quello che poi una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che a differenza di certe modelli di certe edizioni che sono magari anche limited edition che sono dedicate a qualcosa hanno dappertutto il marchio a cui sono dedicate e sul quadrante e sotto il fondello tantissime scritte qua niente c'è semplicemente quel logo a ore 6 della Triumph che è veramente stilizzato che se uno non ci pensa non sa cos'è sembra un abbellimento qualsiasi sembra una decorazione invece la bandiera inglese stilizzata ecco così e poi solamente sotto il fondello c'è scritto Triumph mi sembra sulla parte esterna basta cioè veramente come mi piace a me dedicare qualcosa a un dato soggetto senza però esagerare senza strafare nelle scritte nelle decorazioni dedicate diventa un albero di Natale dopo non mi piace più va bene dai sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto l'orologino io ho cercato di sviscerare punti positivi punti negativi me li sono anche scritti perché la vecchiaia avanza e quindi ti ho detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti